Cavalli, cosa dice la verità, va bene? Se Johnny gira e dà, gli slane e cose fa, lui vuole con la forza del pensiero, ci riesce tutta bene, chissà poi come fa, ma che affascina anche Johnny. Johnny, è quasi magia, Johnny, ritrova di nuovo Johnny, e come sempre riuscirai. Johnny, è quasi magia, Johnny, io provo e riprovo, Johnny, ma non ci riesco proprio mai. Cambiamo, cambiamo, siamo una bella, davvero. Cambiamoci. Chi è? Robin Hood. Ma sì. Guarda cattivante, occhi da pesante, come scintillante, tutto il tuo nome è Robin Hood. Stile curva. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Anni innocenti, sia dei prepotenti, che dei delinquenti, io sono l'erobinù, robinù, un eroe come te, un eroe come te. Capiamo di nuovo! Bene, è da volte. Ah, questa è il piatto. Prende il pallone, prende il pallone. Vai, vai, vai. Prende il pallone, io mi rompo il culo, loro non fanno il cazzo. Balla e merita. Sto assistendo solo, mo' che c'è la telecamera. A Cristina D'Avena, dili di spegnere questa cazzonissima, che era un po' tu. Vieni, 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 vieni qua. E fuori di classe. Vieni, vieni, vieni qua il pallone. C'è la telecamera. No, 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 ti prego, ti prego. dai, vai eh, c'è però eh, e tu portiere determinati e scatenati alla classe del cuore in classe oggi è ben gira sono quei cittadini questi campioni però a cuore faccio un ballone sanno giocare poi lo ha lasciato poi lo ha lasciato hanno la forza dell'umiltà e da la forza voglio grande coriatà scanto e segna tanti con benzi porcani di ricorre che campioni voglio i benzi chi c'era il campionato sia per ogni sia per i benzi scontri a un tipo e diamo la forza che campioni o le benzi questa coppia eccezionale guiderà la nazionale che campioni non è non è che campioni voglio i benzi questa coppia eccezionale guiderà la nazionale non è che campioni devi crescere devi crescere non di caso volevo dare un annuncio volevo dire se era possibile più umiltà se era possibile che ognuno vivesse nei suoi abiti e mi sto riferendo proprio a determinati lupi qui presenti ad altre persone chiedo di fare amicizia con la Lametta che ogni tanto dà buoni consigli di non scioperare sempre e ad altre ancora dico di togliersi le pantofole dell'Inter che sono ridicoli e allora tu fatti un bagno nel lupistato devi fare che sei una merda chiedo di farlo proprio guardami che puzza mi vede a vedere se puzza scusa vuole farvi delle proteine l'impasticcato della casa della Cerepciana Valetti esatto non sai neanche parlare che è un po' moro non è dati nemmiocine fa solo la vita basta non dire basta non dire se te l'ha affrontato mi vede con il martello e tu non eri andato fai la vera adesso sto qui fammi lavorare cosa sto martello eh e allora chi c'era il martello ora? ti piglio il martello non be' grazie fammi lavorare non hai mai lavorato mi puoi chiudere posso? si noi andiamo a cazzeggiare da dentro eh con te si è attuale e io lavoro e io la pago e c'è vero e c'è vero e vabbè quello è non ti puoi sbagliare scusa mamma è finito il karaoke è finito possiamo fare l'ultimo e dai Enrico ciao no no non ce ne ho parlo però qual è l'ultimo? l'ultima l'ultima non la sai non è bene l'ultima c'era l'ultima c'era l'ultima quando ti chiedi una mano devi venire faccio quello che voglio no non faccio quello che voglio non è importante andare a cercare tutte quale tutte quale mi è arrivato in faccia mi è arrivato in faccia testa di cazzo in faccia mi è arrivato i miei pugni mi è venuto male che pazzi ti riprendi tu? hai visto hai visto un pugno ce l'avevo atterrato uno ma ma sto ritorno stai chiedendo una mano che mi serve che mi tenga non mi interessa non lo sai fare non lo sai fare non lo sai fare non lo sai hai paura hai paura scappata hai paura di sbagliare hai bisogno dei miei consigli devi crescere devi crescere devi crescere ancora ancora hai tempo per te dai c'è quel tenis che c'è qua cazzo non è troppo vivi vivi Paolini Paolini finisci cresci cresci il lavoratore vale che c'è la città che vaga un po' peggio questo questo anche lo te è partito vagabundo io l'ho messo in mezzo i genitori devi togliere quello in mezzo perché quello in mezzo può entrare che è tanto capito capito andiamo andiamo capito io sono Adams principe di Elet e di persone dei segreti del castello di Greco questo è Gringo il mio eroico subì di avere certi paurosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e di sì per la forza di Greco la grande porta è per fare e e l'uomo l'uomo più forte e potente dell'intero universo Gioffre l'uomo più forte e potente dell'universo è normale è trapparezza ma sì che lo devo mettere grazie è quella doveva l'universo mentre è potente è è la non è le 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 non le 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 le